E' sempre dall'edizione Incoming 2014 con noi c'è Massimo Bernardo che è responsabile per quanto riguarda la comunicazione di Assomarinas che è l'associazione che si occupa di quelli che sono i porti turistici in Italia, un evento importante anche proprio per far conoscere a tante persone venute da fuori, da tutto il mondo, abbiamo visto che c'era addirittura qualcuno venuto da Miami quello che sono un po' le nostre coste siciliane in questo caso e soprattutto come siamo attrezzati per quello che è un discorso di accoglienza un discorso che ieri anche in conferenza stampa è stato sottolineato quanto sia importante proprio è la porta che permette di entrare in quello che poi è il mondo, in questo caso della Sicilia, ma insomma tutto quello che l'Italia può offrire a terra Ecco, io la definirei proprio l'Incoming per offrire l'eccellenza, una delle tante eccellenze italiane e il comparto nautico qui in Sicilia è una vocazione naturale, anche il turismo nautico collegato, da rilanciare e da far conoscere nel mondo Ecco, questa edizione dell'Incoming in effetti ha raggiunto l'obiettivo concentrando l'attenzione di operatori di stampa internazionale e di altri ospiti molto importanti ma soprattutto ha rappresentato anche uno stimolo per la regione siciliana diciamo nell'investire in questo comparto, soprattutto nel turismo nautico Ecco, abbiamo visto che tutte le persone che sono venute con noi in questo breve giro perché la Sicilia è grande siamo partiti da Catania, abbiamo fatto tappa poi passando da Messina per arrivare poi a Palermo molto interesse per quello che sono tutti i segreti del territorio della Sicilia, una terra particolare che andrebbe valorizzata un po' di più Ma, indubbiamente andrebbe valorizzata di più, secondo, diciamo appoggiandoci anche a nuovi momenti, a nuove formule diciamo di marketing, soprattutto direi di co-marketing, cioè la produzione dovrebbe essere promossa insieme al territorio Ecco, infatti nel nostro escursus abbiamo visto dei cantieri, cioè abbiamo visto della produzione, dalla vetroresina dagli stampi, eccetera, ma soprattutto abbiamo visto l'impegno e la professionalità di questi addetti che deve essere premiata proprio inserendolo in una cornice più vasta che oggi col mercato globale è ormai una cornice internazionale, quindi incoming in Sicilia è una cosa importantissima è un momento importante proprio per confrontarsi col mercato che non è ovviamente quello solo locale ma è un mercato sempre più internazionale Mi ha visto come per esempio in altri paesi, voglio dire, tanto per Charmé-Sheikh, tanto per darne un nome là hanno valorizzato quelli che sono i villaggi turistici proprio nella logica di portiamo qua il turista e non hanno nulla rispetto a quello che può offrire la Sicilia e tutto il resto d'Italia Ecco, e questa parte da Leone la stanno facendo le nostre marine le nostre marine stanno diventando dei resort galleggianti quindi l'investimento non è soltanto sull'ormeggio, sul posto barca anzi, è su quanto il porto nel suo complesso può offrire come proprio un grande albergo galleggiante senza dimenticare il suo collegamento diretto col territorio quindi anche la possibilità di conoscere quei valori che ogni terra può offrire e noi in Italia ne abbiamo una vastissima scelta dalla città d'arte, all'enogastronomia, alla scoperta dell'archeologia poi la Sicilia in modo particolare insomma io credo che nel Mediterraneo per la sua storia, per la cultura della sua gente ecco, sia il più bel biglietto da visita per conoscere l'Italia Infatti abbiamo visto come oggi che stanno partendo piano piano stanno andando via tutti a male in cuore cioè è difficile quando si assaggia quello che è il territorio e quello che è la gente, l'accoglienza e la cultura che appartiene alla Sicilia chiaramente chi è qua fa fatica a poi andare via questo a sottolineare insomma che se si stesse un po' più attenti a quelli discorsi che abbiamo fatto adesso probabilmente qua ci sarebbe un settore da sviluppare moltissimo che darebbe forse anche un aiuto a quello che potrebbe essere una piccola ripresina Ma indubbiamente questo concorso diciamo alla rilascio del paese soprattutto dal punto di vista turistico è un obiettivo che deve essere condiviso da amministrazioni, da politici ma anche dai singoli imprenditori I nostri ospiti, cioè coloro che hanno partecipato a questo educational sono altrettanti ambasciatori che andranno per il mondo a raccontare il glamour che hanno saputo vivere in queste giornate Erano questi gli obiettivi di incoming, era proprio dare la possibilità a queste persone di conoscere il territorio, di conoscere quello che era anche l'artigianalità e l'arte di costruire barche che appartiene anche alla cultura italiana in questo caso nella regione Sicilia ne abbiamo visitate un paio per fargli vedere effettivamente quanto ci sia dietro quanto sia importante proprio la maestranza italiana Noi ieri parlavamo con un cantiere qua vicino a Palermo la Master Gommoni che è tornata l'altro giorno dalla Cina e diceva proprio una cosa molto particolare lei è andata là per vendere, l'hanno chiamata per vendere il prodotto finito non interessava acquistare né quello che era l'azienda né tanto meno quello che era il know-how perché ha detto voi siete bravi, dovete farci le barche come noi vogliamo le paghiamo e questa è un po' una cosa strana perché la Cina di solito si è mossa comprando le aziende in Italia venendo a prendere proprio l'azienda e diventando proprietari forse hanno capito anche loro che se togli quello che è la cultura e la passione vera che appartiene in questo caso alle realtà nautiche cambia anche il prodotto Ma guardi quello che ho potuto vedere io per esempio nei tanti cantieri è proprio diciamo questa capacità di personalizzare la barca e quindi è anche questo un messaggio diciamo di professionalità e di cultura che ovviamente anche un paese come la Cina è abituato ai grandi numeri probabilmente anche se solo ora si stanno abbracciando diciamo il settore nautico può essere una cosa molto importante per noi Allora noi la ringraziamo per il tempo che ci sta dedicando che ci ha dedicato per essere stato con noi in questi tre giorni fantastici in Sicilia ci auguriamo che ci sia la terza edizione per quanto riguarda l'Incoming perché noi crediamo qualcuno degli ospiti ha detto che secondo lui questo dovrebbero farlo in tutte le regioni d'Italia perché potrebbe essere meglio di una fiera Guardi io di saloni nautici eccetera ne vedo moltissimi in tutto il mondo la presenza diciamo dello stand anche regionale della Sicilia nei vari saloni non è altro che diciamo il primo biglietto da visita che prelude a una visita in Sicilia e l'Incoming è proprio diciamo la conseguenza logica di questa ottima politica di promozione E questa iniziativa è nata appunto l'anno scorso è un percorso che va seguito bisogna avere costanza, tenacia non si possono raccogliere i frutti così dopo due mesi tirare le somme è impossibile Guardi questo è un discorso che riguarda il sistema paese indubbiamente cioè oggi noi viviamo in un'economia globale cioè i nostri confini non sono più le Alpi o soltanto il perimetro marittimo oggi non ci sono confini se non a livello globale ecco noi dobbiamo fare questo salto diciamo proprio culturale oggi la Sicilia si pone proprio come bridge, come ponte tra i tanti paesi dell'area mediterranea e dovrebbe diventare proprio il centro diciamo di un nuovo modo non solo di fare cultura non solo di fare turismo ma proprio di incontro tra i popoli del Mediterraneo perché oggi il Mediterraneo ha qualcosa da raccontare al mondo se non fosse altro perché per la sua storia e però bisogna lavorare molto su quell'aspetto iniziale bisogna aprire le porte, le porte del Mediterraneo il Mediterraneo ci porta tante persone che lo frequentano anche a livello nautico ovviamente navigandolo bisogna poi lavorare su quelle che sono le nostre porti d'ingresso le nostre marine è fondamentale non soltanto che la marina di suo investa e renda la marina il più accogliente possibile ma poi anche da parte delle istituzioni come lei diceva ieri ci deve essere un occhio di riguardo altrimenti non si va da nessuna parte ecco questo stavo appunto ricordando che la collaborazione deve essere tra pubblico e privato ecco dove il privato diciamo fa la sua parte giustamente ma il pubblico deve consentire il privato ecco di non essere gravato da gabelle assurde che non consentono il decollo di ogni iniziativa editoriale e noi su questo messaggio che speriamo venga raccolto anche da chi poi deve prendere certe decisioni, certe scelte direi che qua potremmo salutarci e ringraziare di nuovo Massimo Bernardo per essere stato con noi ci rivedremo speriamo qua in Sicilia l'anno prossimo con l'Incoming 2015 sicuramente guarda io me lo auguro perché oggi purtroppo le finanze del paese impongono degli investimenti intelligenti e la redditività l'abbiamo vista anche dalle dichiarazioni dei vari operatori che sono stati ospiti in questo Incoming direi che è stato un obiettivo raggiunto e allora con questo veramente la salutiamo la ringraziamo di nuovo e speriamo di poter rivivere l'Incoming 2015 e chissà magari in qualche altra regione d'Italia grazie a lei il mondo secondo me è comunque un'impresa anche perché veniamo comunque è una barca che ha vinto tutto ha vinto anche il mondiale nel 2004 a Napoli non esiste ancora un marina si continua prima il Mediterraneo e poi l'Oceano Atlantico con